Carlo Cotaffavi, Presidente Nazionale ICV, qui all'aeroporto di Olbia per la presentazione del WindSurf Grand Slam 2014. Quale importanza può avere il WindSurf per la Sardegna e la Sardegna per il WindSurf? Direi, grazie della domanda, un'importanza fondamentale per tutti e due, perché la Sardegna ha una collocazione geografica e delle condizioni meteo che 365 giorni all'anno ci regalano questo tipo di emozione per il nostro sport. Le potenzialità per la Sardegna in ambito di turismo sono incredibili, perché naturalmente avendo questa possibilità si potrebbero creare posti di lavoro legati appunto al fenomeno WindSurf. Penso banalmente non soltanto a discorsi di campeggio, località turistiche, ma a qualsiasi attività legata al WindSurf. Si potrebbero potenziare tranquillamente i collegamenti marittimi, perché naturalmente per noi non è importante solo il periodo tipico della vacanza in Sardegna, ma il venerdì sera poter venire qui perché c'è la perturbazione e usufruire del vento e dei servizi della Sardegna per noi sarebbe fantastico. Quali caratteristiche ha il mare Sardo per fare WindSurf? Allora, anzitutto è un mare baciato dal vento a 360 gradi. La Sardegna ha una collocazione geografica nel Mediterraneo che tutto il mondo ci invidia anche su un potenziale di clima e di temperatura, non solo dell'acqua ma anche ovviamente da un punto di vista banalmente meteorologico, cioè non ci sono mai quelle condizioni di acqua troppo fredda o temperatura troppo fredda e quindi paesi del nord Europa possono venire ad allenarsi o a usufruire delle bellezze della Sardegna e del clima particolare che c'è in Sardegna.